Il Valli introduce un segmento dedicato al marchio Ford con questa Thunderbird ma poi Valli io dopo ti stupirò perché è uscita la nuova Focus ti voglio veramente meravigliare con il capolavoro di design che hanno fatto perché mi sono preso la briga di andare a cercare due o tre confronti e devo dire che insomma geniali questi designer moderni Basta che ricordiamo che c'è Ford Europa e Ford America e non confondiamole perché sarà un momento Sai che non faranno più la Mondeo forse? Come faremo? Io credo che cambierò lavoro Minchia non dormiamo più eh No, non ce la posso fare Partiamo da una Ford che è Ford ancora dopo quanti anni? Quanti ne ha? Allora 11 generazioni di T-Bird dal 55 al 2005 e ha chiuso i battenti con il cinquantesimo anniversario Questa è la quarta generazione, un 1964 anche l'hanno fatta in tutte le versioni Coupé convertibile, quattro porte, Landau Landau aveva un tettuccio particolare Macchina stranissima Trovo una laterale bellissima Prima Franco ha detto molto elegante Insomma hai tirato fuori l'aggettivo sicuramente positivo da attribuire alla macchina una delle ultime con la mezzaluna rimasta l'Affmoon che nasconde la parte posteriore è tetto molto basso un motore 390 pollici che tradotto per 16.4 siamo a 6.3 litri da 325 cavalli quindi neanche due e servo steffera è condizionata questa... dovresti fare una passeggiata perché io ho il microfono legato Scusi Scusi signor Bobbiese Vedica, io sono solo a letta Vorrei che facesse vedere a casa a parte l'interno, bellissimo il fatto che il volante di questa generazione si buttava a destra per salire era l'era dei ciccioni veri in America che volevano la macchina sportiva e scendevano dalle quattro porte prendi il volante fallo andare da destra a sinistra Lo faccio live Vedi che vai in giro Spacco così Vedi? Ok Quello, una volta salito lo butti tutto a sinistra metti la marcia e lui si blocca Guarda, faccio tutto live tanto a me viene facile E non è che rimane così chiaramente c'era già Gabriele che dice ma come faccio a sgommare e a intraversarmi se il volante E' vero per passarlo al passeggero Guida tu 5 minuti che io dormo Strumentazione stranissima vedi questa strumentazione all'Apollo 13 questi gusci dei sedili così a conchiglia insomma poi il tono su tono secondo me loro erano bravissimi ad accordare i colori Franco mi devi mi devi ammettere che gli americani per il tono su tono e l'abbinamento colori il tetto chiaro il metallizzato fuori questo azzurro agli interni cromatura ovunque insomma io la trovo bella in America non è una macchina amatissima non è una macchina che vale tantissimo io questa chiedo poco più di 25 mila euro ma la trovo bella intrigante molto particolare non so cosa ne pensate voi secondo me è bellissima ma è un po' troppo particolare cioè per me è veramente oltre guarda non sono riuscito nemmeno io a dire però l'ho finita la sto guidando è qualche cosa di come oggetto da conservare sicuramente merita tantissimo ma anche la guidabilità che piace a me è stupenda ma l'originalità è tutta originale quindi per a chi non piacciono le macchine insomma abbastanza banale convenzionale è una cosa unica cioè qualsiasi particolare si distacca si distacca da qualsiasi altro tipo di attività guarda credo che la parte nobile sia la parte posteriore la fanalleria è bellissima il muso a quattro fari non gliel'avrei non l'avrei fatto così cattivo perché è così elegante e bella da vedere in ogni angolo con tutti questi profili che quel muso lì mi sembra un po' troppo da Christine la macchina infernale che piace al mio amico Gabriele mentre invece la parte nobile secondo me è la parte posteriore con la freccia che parte da sinistra ma verso destra all'Audi l'hanno messa l'altro ieri loro la facevano già negli anni 60 la freccia che cammina dalla parte interna alla parte esterna guarda guarda che bella una serie di particolari interessanti per esempio guarda la linea la linea di cintura superiore e la linea posteriore cioè quel pizzicotto bello pizzicotto sì il pizzicotto che era uno uno degli stilemi touring cioè quel pizzicotto che riduce di un'auto importante riduce il peso di una fiancata loro ne ha messo uno sopra e uno sotto guardate che bello anche il gioco sul laterale anche alcuni particolari come l'incavo per la maniglia uno sportellino con l'aiuto per aprirlo del tappo della benzina posteriore cioè ha il suo perché e la parte anche posteriore che si diceva molto bella è molto particolare è unica possiamo dire guardate come sono anche incassati e in questa cornice anche i fanali di una dimensione grossa però trovano il suo alloggiamento corretto la parte anteriore guardate quel bellissimo paraurti con i rostri abbassati anche questo è una ricercatezza di stile i fanali doppi americani tipici di quegli anni con un concavo in quella studiato nel muso cioè c'è un no no è ricercata è ricercata la parte di apertura del cofano vedete che non viene tirata dritta ma è fatta ovviamente con un determinato disegno se guardiamo la parte superiore vicino al parabris quindi gli interni poi sono originali gli interni si si originali conservati perfetti e gli interni sono veramente un salotto e i colori una cromia eccezionale perché guardate che accoppiare colori così tenui con un verde un verde come possiamo dire non è un verde smeraldo però azzurro verde è una trovata ed è col cruscotto così col volante a calice bella macchina e mi dispiace che non sia così valorizzata perché è un bel pezzo questo però Franco adesso passo una foto a Filippo che sicuramente tra due secondi apre il mio computer questa macchina si porta dietro un fardello importante di una macchina veramente bellissima che è la prima nata del 1955 qui c'era una grazia anni 50 pazzesca nasce da lì qui siamo quattro generazioni dopo cioè il tempo che si porta dietro le nostre macchine cioè evoluzioni dei modelli è il tempo che lo fa cioè quella vedi più un'auto ancienne questa vedi più un'auto sul futuro comunque mi piace ragazzi poi il motore 390 Ford per gli amanti del Ford ha equipaggiato anche la Mustang e ha vinto tantissimo quindi parliamo di un motore depotenziato in questa che fa sorridere perché comunque ha 325 cavalli da scheda tecnica ma sulle Mustang l'ha fatta andare davvero forte e da guidare è troppo bella troppo comoda troppo piacevole che cambio ha su? ha un C4 3 rapporti che all'epoca erano quasi tutti i power glide due rapporti quindi già avere un 3 marce non è male sì poi la cosa bella di alcune americane è che si sono salvate dal rapporto corto per la sportività questa che era già da viaggio io ho delle Corvette del 70 con il 454 B-Block e chi la compra dice ma cavolo ma sono in quarta a 140 con il motore che scoppia perché ti dà fastidio il motore a 154 mila giri soprattutto se è un 8 cilindri capito? qui invece ha una bella velocità di crociera un motore potente se butti giù c'è perché ha il quadricorpo però con una con una rotazione a 120 da surplus capito? da 1500 giri tutto questo la rende speciale